È stata una bellissima esperienza, un'esperienza che sinceramente non credevo di vivere anche perché poi è nato un po' tutto all'ultimo momento in quanto io avrei dovuto fare le classiche del nord con Francesco Pancani, poi meno di una settimana prima della partenza del Giro ci sono stati un po' di cambiamenti, Alessandra ha voluto fortemente la mia presenza e quindi in poco tempo ho deciso poi di accettare la proposta Rai e alla fine è stata una bella opportunità e sicuramente una bella scelta. Il ruolo che ho ricoperto in questa occasione è stato un ruolo completamente diverso da quello da corridore però non per questo è stato facile perché comunque è una fatica diversa, sono probabilmente tornato a casa più stanco rispetto a quando correvo però ripeto una fatica diversa perché comunque è un'esperienza nuova dove comunque mi sono calato in questa veste comunque di opinionista o come la vogliamo chiamare al processo alla tappa e comunque sai di essere in diretta per un'ora un'ora e mezzo quindi sai che comunque non puoi non puoi dire cazzate quindi ho cercato di fare del mio meglio anche se è chiaro che rispetto a Stefano Garzelli che da cui ho imparato tantissimo e sto cercando di imparare tantissimo a lui che sono già sette anni che lavora con con la Rai quindi ci terrei a dire che eravamo una squadra davvero affiatata quindi questo mi ha permesso di vivere queste tre settimane in maniera bella e anche divertente ci sono stati dei momenti è chiaro anche un po' di tensione perché comunque quando vai in diretta devi preparare la trasmissione e magari io non essendo abituato magari le prime volte dovevo anche un po' capire come gestire le certe situazioni però eravamo un bel gruppo affiattato e andavamo d'accordo ci siamo anche molto divertiti io essendo sceso dalla bici un anno fa mi sono comunque immedesimato nei corridori e come ho detto in quell'occasione lì io sarò sempre dalla parte dei corridori perché se fossi stato corridore non sarei partito nemmeno io quel giorno inutile nascondersi dietro a questa cosa è chiaro che quello che è successo lì è successo un po' tutto all'improvviso e magari al momento non si è capito bene come sono andate le cose forse non lo si è capito anche addirittura adesso dopo che è passato un bel po' di tempo però è chiaro che con le dichiarazioni di alcuni direttori sportivi di alcuni manager e anche successivamente di tanti corridori forse non è stata fatta la scelta migliore quella di non partire o comunque di posticipare questa partenza quell'occasione lì nella trasmissione mi sono semplicemente limitato a dire che è chiaro che è facile essere adesso dall'altra parte e magari dare un giudizio e mai poi mai vorrei fare il paladino della giustizia di qualcosa questo è l'ultima cosa che vorrei fare come ho detto nella trasmissione probabilmente vista legata alla situazione in cui stiamo vivendo il nostro paese sta vivendo l'Europa in generale sta vivendo ma visto che eravamo al giro d'Italia probabilmente sarebbe stata l'occasione per dimostrare che il ciclismo, che i corridori non si facevano intimorire da due ore di pioggia che poi effettivamente non faceva così tanto freddo e come ho detto in trasmissione tantissime altre occasioni ho dovuto io correre in condizioni molto peggiori capisco profondamente perfettamente lo stato d'animo dei corridori perché venivano da una settimana veramente dura veramente impegnativa e credo che il problema fosse a monte sapevamo, sapevano, sapevamo tutti che quella tappa lì era una tappa tra virgolette ridicola non voglio esagerare ridicola dal punto di vista della lunghezza perché veniva in mezzo tra le tappe più difficili del giro d'Italia se ne poteva parlare prima penso, anche prima di partire del giro d'Italia o il primo giorno di riposo c'è stato il secondo giorno di riposo, secondo me una sorta di mediazione si poteva trovare prima e credo che Mauro una sorta di mediazione l'avrebbe trovata sicuramente questo è quello che penso Vincenzo è un grande campione, ha vinto praticamente tutto e la sua onestà ha fatto capire il suo spessore nel senso che comunque lui stesso ha ammesso che quest'anno è stato un anno veramente difficile veramente complicato per tutti, ha maggior ragione per lui che non è riuscito mai a trovare quel colpo di pedale giusto io personalmente anche al giro tutti speravamo di vedere prima o poi un Vincenzo però si vedeva che non era Vincenzo, che la pedalata non era quella, anche in bici non era lui che dire, comunque Vincenzo è un grande campione anche se ha 35 anni sono sicuro che il prossimo anno quel colpo di pedale che ci ha abituati a farci vedere lo rivedremo sicuramente è inevitabile che siamo davanti a un cambio generazionale incredibile e è vero che ci sono tantissimi talenti che vengono alla ribalta questa stagione ce l'ha dimostrato, già la passata stagione aveva fatto capire che Van der Poel, Van Aert erano astri nascenti, però quest'anno abbiamo avuto altre conferme come Almeida Geogenhardt che comunque non è giovanissimo rispetto a loro, però è riuscito a vincere un Giro d'Italia dopo aver fatto esperienza al fianco di Froome, al fianco di Grant Thomas lo stesso Indley che comunque ha fatto un Giro d'Italia incredibile, ha dato battaglia ha infiammato il Giro d'Italia nelle ultime due tappe il dispiacere più grande è non avere un azzurro, un italiano al fianco di questi giovani ne abbiamo tanti interessanti, ma probabilmente per adesso non a quel livello